La società italiana di pediatria è molto lusingata per questo premio sulle vaccinazioni, da sempre si impegna su questi temi per promuovere la diffusione della cultura vaccinale presso i genitori, le istituzioni e i colleghi. E quindi è molto importante per noi questo premio perché rappresenta la conferma della bontà di quello che viene fatto, come pediatri da tempo ci siamo resi conto che non è più sufficiente restare nelle corsie o negli ambulatori, ma è molto importante divulgare la cultura delle vaccinazioni e delle malattie infettive e stiamo cercando di farlo al meglio delle nostre possibilità. Grazie